Ma buongiorno a tutti ragazzi, bentornati in compagnia del Guerz, bentornati ovviamente qua sul canale YouTube di EvoSmart Oggi andiamo a vedere, voglio mostrare un prodottino secondo me molto molto interessante, è il TicWatch Pro 5 Enduro Potevano farlo al contrario, comunque si aggiorna in questa colorazione nuova che vedrete appunto all'interno di questa review Non è un prodotto in anteprima perché già sicuramente l'avete visto, avete visto la recensione insomma su tanti canali YouTube Però ecco io non l'avevo mai provato, mi è arrivata questa colorazione molto carina secondo me Ed è un prodotto interessante, interessante perché mixa un attimino le cose, è Wear OS chiaramente E soprattutto ha la possibilità di utilizzare questo display non colorato, quindi display bianche e nero Per andare a risparmiare tantissimo l'autonomia del device Ci sono soluzioni molto interessanti in questo ultimo periodo, mi viene in mente quella utilizzata da OnePlus Ma comunque mi vengono in mente oramai smartwatch che finalmente, dico finalmente, durano almeno 3-4 giorni di autonomia Che è alla fine il crucio principale di questi dispositivi Ed eccolo qua, lo vedete al mio polso In questo momento, come potete forse notare dal video, non sto utilizzando i display a colori Ma sto utilizzando la variante in bianco e nero, è tutto in automatico Ma chiaramente se siete su questo canale avete già visto in tutti questi anni i prodotti T-Watch Molto chiacchierati nel tempo, prodotti che all'inizio non si aggiornavano praticamente mai Poi sono diventati anche buoni, lato update software, almeno nella precedente versione che abbiamo testato La 3 si aggiornava il prodotto, però vedete ecco la costruzione Mi è piaciuta molto, particolare, un prodotto molto carino, molto centrato bene ecco secondo me Guardate anche il cinturino rifinito in silicone, ok, però non è un cinturino buttato lì a caso Mi è piaciuto fin da subito, fin dalle prime immagini e soprattutto out of the box È un prodotto, come vi dicevo, molto molto interessante Cosa fa, cosa non fa, chiaramente adesso ve lo racconto all'interno di questa recensione Voi mettetevi comodi, iscrivetevi al canale YouTube per non perdervi tutte le nostre recensioni E adesso vi racconto come va questo TicWatch Pro 5 Enduro E allora eccoci qua, me lo sono tolto dal polso, almeno ve lo faccio vedere più nel dettaglio Nella parte posteriore troviamo, vedete tutta la sensoristica, eccola qua Troviamo un cinturino con sgancio rapido, quindi qualora non vi dovesse piacere la scelta di TicWatch Potete tranquillamente comprarne uno compatibile all'interno di Amazon, dove volete Però vi ripeto, è molto molto rifinito Mi è piaciuto fin da subito questo cinturino e soprattutto, vedete, non mi ha dato fastidio al polso Niente arrossamenti, niente escoriazione, quindi comunque un cinturino fatto bene, una plastica fatta bene Volevo anche far vedere i dettagli, vedete la parte circolare che gira attorno Ci sono due tasti fisici, eccolo qua, potete rispondere tranquillamente alle chiamate Non è compatibile con iPhone, quindi è solamente compatibile con le smartphone Android C'è l'app dedicata, non scaricate Wear OS perché tanto va in conflitto, dovete utilizzare l'app di Movvoy E poi abbiamo, come dicevo, due tasti fisici Il primo, che accende il display, nonché va a richiamare tutte le ultime app utilizzate E il secondo, quindi quello tondo, è un tasto per tornare indietro, ma è anche un tasto, lo vedete, per aprire tutte le vostre impostazioni Cosa fa lo smartwatch? È presto detto, è uno smartwatch che, come vi dicevo prima, vi permette di rispondere alle chiamate Misurazione di battito cardiaco, ossigenazione del sangue, cuore, tutta la vostra giornata quotidiana Come dormite, fa praticamente tutto quello che fa lo smartwatch Potete rispondere tranquillamente a tutte le notifiche Potete installare applicazioni, come vi ho detto, è Wear OS Quindi non c'è nessun tipo di problema, come non c'è nessun tipo di problema nell'andare a pagare con questo smartwatch Vi faccio vedere un pochino il menu, più che altro, ecco, torno indietro e entro proprio nel cuore del menu contestuale Vedete calcolatrice, contatti, cronometro, Google Wallet, come vi dicevo prima, le impostazioni, i maps Si possono scaricare applicazioni dal Play Store senza problemi Quindi banalmente è uno smartwatch, Wear OS, cosa fa? Fa tutto E lo fa, devo dire, anche molto molto bene C'è un pochino la sua parte integrante, quindi il tic salute, il tic respiro Tutte queste app che si chiamano appunto come ticwatch Non trovo bellissima questa dicitura, però lo sappiamo, ormai ticwatch chiama le sue app così C'è un connettore nella parte posteriore che è proprietario, eccolo qua Trovate chiaramente il caricabatteria in confezione E l'autonomia Nanto Plus dell'orologio Guardate, sono al 26%, è acceso da 4 giorni Quindi è un'autonomia che si assesta intorno ai 5 giorni di utilizzo Con tutte le notifiche, tutto attivo La vibrazione non è malvagia Non è il massimo, ma non è neanche una vibrazione pessima Una via di mezzo Insomma, devo dire ragazzi che onestamente l'ho messa al polso E non mi è mancato il mio Apple Watch Ultra 2 Più che altro, vedete, anche esteticamente mi è piaciuto Perché mi ricorda molto il mio Galaxy Watch 5 Pro Me l'ha ricordato subito Andiamo a riaccendere il display Ora, se vedete questa riga non vi preoccupate Ma è iPhone che purtroppo fa questo dettaglio sul display AMOLED Uno swipe verso il basso per interagire con tutti i toggle Uno swipe verso l'alto per interagire con le nostre notifiche Vedete, eccole qua Poi uno swipe verso destra per guardare tutti i dati dell'attività quotidiana Mentre uno swipe, scusatemi, verso sinistra Per iniziare a interagire con tutti i widget Widget che possono essere personalizzabili all'interno dell'applicazione C'è appunto un riepilogo della nostra giornata Quanto abbiamo dormito, la salute Tutta la nostra attività quotidiana Quindi vedete, tutto a swipe Ma come oramai tutti gli smartwatch fanno Bene, eccoci qua Siamo all'interno di Motorola Razer 50 Ultra ragazzi Perché questa è l'applicazione Movvoi Eccola qua, andiamo subito ad aprire L'applicazione che non mi è assolutamente dispiaciuta Per quanto riguarda appunto tutto l'inserimento dei nostri dati Questo è uno smartwatch che fa moltissimo Fa tante cosine E vengono tutte immagazzinate all'interno di questa app C'è anche un cloud Quindi io vi invito a registrarvi Così un domani se dovete cambiare prodotto Dovete cambiare telefono Avete tutti i vostri dati salvati Qua abbiamo la nostra attività Qua abbiamo il tab dello sport Qualora avessimo fatto dello sport Non è il mio caso in questo momento Qua c'è il sonno Tra l'altro ho trovato questo smartwatch Molto molto preciso ragazzi Soprattutto sabato Ecco, sono andato a dormire Effettivamente Cioè mi sono addormentato alle 23.36 Mi sono svelato alle 7.32 Preciso La precisione è uno dei punti di forza di questo TicWatch Per quanto riguarda almeno il tracciamento del sonno Battito cardiaco, ossigenazione del sangue Cosa che in passato forse non era assolutamente così Tornando indietro Qua vediamo altri dati Come vi dicevo prima Abbiamo la possibilità di gestire il nostro dispositivo Watch face, impostazioni, schede Come vi dicevo i widgettini di prima E poi come vi ho detto fatevi un account O almeno loggatevi come ho fatto io con Google Almeno avete tutto il vostro storico all'interno dell'applicazione Applicazione che scavalca Wear OS di Google Ed è l'applicazione che dovete utilizzare se volete configurare il TicWatch Vi ricordo che non va su internet Vi ricordo che non va su Apple E tra l'altro vi ricordo che è anche impermeabile Nonché resistente all'acqua fino a 5 atmosfere Concludendo ragazzi capitolo prezzo Allora il prezzo più o meno si aggira intorno ai 350€ Poi dipende dal mercato Dipende molto dalle offerte che ho trovato in rete Dipende molto magari se andrà in offerta Che ne so Per il Prime Day che arriverà a metà mese E' uno smartwatch che a me personalmente è piaciuto E continuerò in questo momento a utilizzarlo Perché appunto ho la combo con il Razer E volevo un po' testare un attimino i due prodotti Fino a giovedì Non torno in ufficio perché domani vado a Milano ragazzi Per registrare cose Poi capirete E quindi niente Io continuo con questa accoppiata Un prodotto dedicato magari a chi vuole andare a correre A chi vuole fare tanta attività fisica Non è un Garmin per carità Quindi non prendetelo come un prodotto sport Occe a 360 gradi Ma un'altra buona alternativa In un mercato di smartwatch Che quest'anno è forse Senza grandi novità Ma con dei prodottini secondo me molto molto interessanti Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto All'interno dei box e dei commenti Lo sapete Voglio sapere sempre La vostra opinione E anche per quest'anno Io do al Guerson è tutto E ci sentiamo nei commenti Se avete bisogno di sapere qualcosa Perché sicuramente mi sarò dimenticato qualcosa ragazzi Un periodo molto folle per tutti noi Ma in particolar modo Niente ragazzi Ci vediamo mercoledì Per la recensione Credo di riuscire a farla Massimo giovedì Nel Motorola Razer 50 Ultra Una bella sorpresina Ciao a tutti raga Ciao a tutti